L'avvertenza solsonica rimane un campo aperto nel quale le proteste da parte dei sindacati e dei lavoratori sono all'ordine del giorno. In questi giorni, oltre al presidio dei lavoratori presso lo stesso sito industriale, si è svolto anche l'incontro in Confindustria, dove sindacati e azienda hanno fatto il punto della situazione, come ha spiegato Giuseppe Ricci, segretario Cislarieti. È stato ribadito da parte dell'azienda che ci sono degli interessi che però ad oggi non è che hanno formalizzato un qualcosa di concreto rispetto alle nostre richieste, tant'è che ci siamo lasciati e nelle prossime ore ci incontreremo con i lavoratori per decidere come proseguire il sit-in, perché non ci dimentichiamo che i lavoratori dall'altro ieri sono in protesta, ma in protesta per il semplice fatto per sollecitare da una parte l'azienda, e da una parte l'istituzione e quindi il ministero a concretizzare queste manifestazioni di interesse che si sono più volte dette, che ad oggi però purtroppo non sono state formalizzate. Ciò che si vorrebbe è un piano che preveda una continuità aziendale e tra le loro proposte ci sono due piani che la contemplano. È venuto il momento di accelerare i tempi, ha concluso Ricci, perché i lavoratori sono stanchi. Bene, è ora di concretizzarle perché i lavoratori non ce la fanno più, quindi è bene che tutti quanti accelerino su questo processo che passa attraverso la preoccupazione di tutti i lavoratori anche con nuovi soggetti.